Stiamo assistendo ad una crisi di Forza Italia. Puntate ad intercettare quel voto e se sì come? Guardi, questo è un paese in cui negli ultimi 12 mesi 11 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per difficoltà economiche. Tutti i cittadini sanno che chi ha già governato ha massacrato la sanità. Se oggi vogliamo risolvere questi problemi dobbiamo sapere che gli altri hanno privatizzato la sanità in questi anni. Noi vogliamo renderla pubblica. Vale per gli elettori di Forza Italia come per tutti gli altri elettori degli altri partiti. In vista del voto del prossimo 19 giugno conferma che non darete indicazioni di voto nei posti dove non siete al ballottaggio in chiave antirenziana. Noi crediamo che i cittadini siano liberi di poter scegliere per chi votare. Io credo soltanto che si debba andare a votare ma noi non diamo indicazioni perché confidiamo nell'intelligenza delle persone. Crediamo che le persone siano intelligenti e non siano persone da orientare nel voto al ballottaggio. Che effetto le fa sentire che Salvini invece dà indicazioni ai suoi o meglio dice io voterei per Raggi Appendino? Anche lui si illude di poter dire ai suoi elettori per chi votare ma saranno loro a decidere. Parlando del futuro ha ragione secondo lei chi dubita del vostro impegno per il no al referendum considerando il fatto che se vincesse il no l'italicum cadrebbe e in fondo l'italicum è legge per voi favorevole? Qualcuno dice che l'italicum e questa riforma ci favorirebbero alle prossime elezioni politiche e proprio per questo dobbiamo essere apprezzati nel fatto che comunque ci opponiamo all'italicum e a questa riforma. Quindi è in grado di confermare sindora il vostro impegno per il no al referendum? L'ho già detto e lo confermo. Se queste elezioni amministrative dovessero andare male per il governo secondo lei che cosa succederà? Il PD e Renzi dovranno starci a sentire, dovranno approvare un reddito di cittadinanza per 10 milioni di cittadini italiani in difficoltà e approvare una seria legge anticorruzione. Se non lo faranno se ne vadano a casa.